Questa diretta, diretta che servirà per presentare un nuovo ciclo di interviste, abbiamo chiamato social webinar delle interviste, infatti il nostro logo legge da face to face, interviste a due, su temi caldi del settore. Oggi ci dedicheremo brevemente a spiegare quello che sarà il format che ci seguirà dal settembre in poi, tra poco trovo la Paola Dosatti che ci spiegherà nel concreto, in quanti appuntamenti avremo e di cosa parleremo, però l'idea è quella di dare a tutti gli utenti social che ci hanno seguito fino adesso in maniera anche molto assidua, uno strumento per tenersi aggiornati e per avere quelle notizie che difficilmente si reperiscono sul mercato. Paolo, spiega un po' le... Sì, fondamentalmente abbiamo pensato di strutturare questo primo ciclo di incontri con tre appuntamenti che inizieranno a settembre, verso la fine del mese e poi proseguiranno fino a dicembre. Gli argomenti che tratteremo saranno i più disparati, non saranno collegati soltanto agli aspetti normativi più tecnici ma anche agli aspetti del business, quindi del lavoro concreto che poi viene fatto quotidianamente dagli intermediari del credito e ci avvarremo dell'aiuto di esperti, di studiosi, di addetti ai lavori che ci aiuteranno a sviluppare gli argomenti che di volta in volta saranno trattati, che andranno dalla vigilanza alla compliance, dalle novità normative fino a toccare e poi altri aspetti più specifici che possono essere relativi alla previdenza complementare e ai servizi che sono offerti dagli enti previdenziali, dalle nasarco e in partito. Parleremo con esperti che verranno direttamente dall'OAM e da altri enti e da altri operatori. Sì, poi da tenere anche presente che la particolarità del social webinar unisce le due attività, l'attività social e quindi il fatto di poter condividere anche da parte vostra eventuali domande. Noi faremo in modo che vi possiate registrare al social webinar prima e vi chiederemo anche delle domande da porre ai nostri ospiti in maniera anticipata, però ci stiamo organizzando per ricevere anche domande in diretta in modo da potervi far fare direttamente delle domande di vostro interesse all'interromputore. Ripeto, abbiamo chiamato social webinar proprio per integrare le due parole, social e webinar, quindi qualcosa che sia un seminario formativo all'interno del web. Quindi utilizzando questa opportunità del live streaming di Facebook e poi successivamente il nostro canale YouTube troverete la possibilità di ascoltare i nostri interlocutori. Io direi che più o meno abbiamo dato un'infarinata di quella che è la nostra attività. Abbiamo detto che partiremo dopo la metà di settembre con il primo appuntamento, se ne sosseguiranno almeno altri due per la fine dell'anno. Ciò non toglie che lì dove dovessimo trovare argomenti di particolare interesse, interlocutori in particolare in rilevanza, che vanno anche oltre, abbiamo detto, gli argomenti di compliance, di previdenza ed altro, potrebbero essere degli argomenti strettamente legati anche al business. Quindi di fatto abbiamo un ventaglio di opportunità molto ampio che vi racconteremo volta per volta. Io direi che come primo incontro è sufficiente, spero, per avervi spiegato il nostro format. Se avete delle domande potete comunque scriverci tramite Facebook o anche tramite il sito Simple Beats, tenetemi aggiornati sia lato social sia lato newsletter di Simple Beats e vi diremo come e quando partirà il ciclo con il primo ospite. Io saluterei. Facciamo i nostri saluti a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, guardando in questo momento, ci rivediamo a settembre, auguriamo una buona estate a tutti quanti. Sì, sì, assolutamente sì, visto che non ci vedremo almeno live fino a settembre, una buona estate a tutti. Grazie.